Le stelle che vediamo in cielo sono le cosiddette stelle fisse, quelle che non si muovono mentre i pianeti si spostano attraverso di esse, perciò sono più facilmente identificabili. Ora sono state scoperte nella nostra galassia 675 stelle che invece sono delle vagabonde, sono delle stelle che viaggiano negli spazi intergalattici a velocità di milioni di chilometri e allora. Sono particolari stelle, come vi dicevo, vagabonde, fuggitive, che probabilmente sono state scagliate dal buco nero che sta al centro della nostra galassia, che le ha usate come dei sassi di una fionda, scagliandole via. Queste stelle continuano il loro viaggio attraverso gli spazi siderali a velocità spaventose, inimmaginabili. Hanno un colore rossastro e questo dipende dal fatto che hanno nel loro nucleo un'elevata quantità di metalli. Questo ci fa capire che, essendo delle giganti rosse, sono delle stelle non più giovanissime, ma che stanno invecchiando, simili a quello che diventerà il nostro sole alla fine della propria esistenza. Quindi si suppone che queste stelle vagabonde, viaggiando nello spazio, hanno continuato il loro ciclo vitale, invecchiando come invecchierà il nostro sole. Il prossimo passo della ricerca è quello di identificare tra queste stelle qualche nana bruna, essendo queste ultime simili alle giganti rosse come colore, ma molto più debole. Dovrebbero trovarsi anche molto vicini a noi e si spera anche di farne una mappa tridimensionale di queste vagabonde dello spazio. Naturalmente tutti noi ci chiediamo cosa accadrebbe e se è possibile che una di queste stelle ultraveloci dovessero arrivare in vicinanza del sistema solare. Lo spazio è pieno di misteri e le sorprese sono anche tante. Grazie, alla prossima.